Cresce il profilo economico del gruppo Estra che ha chiuso il bilancio consolidato 2019 con un miliardo di euro di fatturato, più 18% sul 2018 e un utile netto di 16,7 milioni aumentato del 117%. Emergenza Covid-19 ai clienti disoccupati in cassa integrazione autonomi con misure di sostegno al reddito, Estra concede pagamenti fino a 6 rate delle bollette emesse tra il 10 marzo e il 3 maggio. Alle stesse categorie di clienti in difficoltà causa emergenza sanitaria sono concessi da Estra piani specifici di rateizzazione senza applicare interessi per bollette di importo superiore ai 5.000 euro. I clienti a cui Estra causa epidemia coronavirus concede il pagamento rateale possono accedere al beneficio se in regola con i pagamenti. Le richieste a clienti a testa spa.it o per telefono al call center. A presto! 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 A presto!